gentili telespettatori buona giornata ogni giorno parliamo di quelli che chiamano i furbetti del reddito ma sono dei veri e propri truffatori dei criminali questa volta la truffa della famiglia invisibile 4 ville e 28 macchine ma si dichiaravano nullatenenti il 10 per cento delle persone controllate non ha diritto al reddito di cittadinanza il 10 per cento se facciamo una proiezione su oltre 3 milioni di fruitori del reddito significa che 300.000 sono truffatori moltiplicate 300.000 per 500 euro al mese facciamo facciamo una un rapido calcolo allora 300.000 persone al mese per una media di 550 euro vengono fuori 165 milioni al mese di truffe al reddito se moltiplichiamo questo per 12 mesi abbiamo praticamente caspiterina un miliardo 980 milioni all'anno di truffa del reddito questi sono i calcoli del 300.000 truffatori per 550 euro al al mese per 12 mesi viene fuori un miliardo 980 mila euro complimenti veramente complimenti ai soliti ci facciamo riconoscere mondialmente italia paese di poeti navigatori e truffatori bene vediamo quali sono i trucchi di questi truffatori nucleo familiare indicato sulla carta tre persone nessun reddito praticamente una famiglia di nulla tenenti e nulla facenti nel senso che non hanno lavoro non hanno reddito non hanno case non hanno nulla in realtà due fratelli e la moglie di uno di loro tutti con precedenti per furto e reati contro il patrimonio in totale avevano 28 macchine così divise 12 e 11 ciascuno tra i due uomini e gli altri cinque alla donna e poi la villa a monza e altri e altre tre in lombardia tra lecco e gallarate e il paesino di gola secca nel vare sotto che saluto che ci passavo quante volte sono passato da gola secca nonostante questa situazione percepivano tutti e tutti e tre tutti e tre il reddito di cittadinanza a partire dal 2019 nell'ordine di cinca 400 euro mensili a testa quindi 400 euro 1200 euro 1200 euro al mese questa famiglia di nulla tenenti quindi 1200 per 12 mesi intascavano 14 mila 400 all'anno per non so due anni e mezzo che percepivano questi soldi si sono presi ben 36 mila euro si saranno potuti comprare un altro paio di macchine no visto che gli ci piacciono le macchine alla famiglia di nulla tenenti ma andiamo andiamo avanti questo forse uno dei casi più eclatanti scoperto dai carabinieri del reparto operativo di monza hanno effettuato controlli a tappeto su 4000 cittadini della provincia di monza che percepiscono nel sostegno economico come misura di contrasto alla povertà qui forse era in contrasto la ricchezza il 10 per cento di tutti quelli controllati si è rivelato in realtà privo di requisiti così hanno trovato 400 su 4000 privi di requisito 400 privi di requisito 400 è non 4 400 in un campionario di imbrogli che i carabinieri hanno fatto venire alla luce c'erano quelli che inventavano di avere figli a carico oppure gli stranieri che dicevano di essere ormai italiani acquisiti da oltre dieci anni invece erano arrivati da pochi mesi a svelare la truffa sono stati i carabinieri della compagnia di monza agli ordini del maggiore manuele donofri sotto il coordinamento del procuratore della repubblica carlo 5 quindi stranieri che arrivano in italia con diceva vai in italia dici che sei lì da dieci anni tanto chi lo sa quando sei arrivato e ti fai un bello stipendietto del reddito di cittadinanza bene il danno quantificato è in oltre 200 mila euro al mese perché 400 truffatori una media di 500 euro al mese si tratta dicono però attenzione una stima al ribasso sono di più molti di più qui si parla di truffa gravata altro che i furbeti mannaggia sei un furbetto del reddito un furbetto arrotondavo 4 euro in più così sai la vita è cara e poi zona milano monza così la vita è cara e quindi sì ho fatto un po di furberie del reddito ma cosa volete che sia no è truffa gravata ai danni dello stato indebita percezione ma non dicevano i grillini quelli delle scatolette di tonno vi ricordate che chi faceva truffa sul reddito andava in carcere per sei anni voi conoscete un solo caso di uno che è in carcere per aver truffato lo stato questo è il problema this is the problem il problema è proprio questo la mancanza di un sistema coercitivo in grado di farsi rispettare cioè lo stato non è in grado di farsi rispettare immaginatevi se tutti quelli con reddito i truffatori del reddito dovessero andare in carcere dovrebbero costruire credo una città grossa come genova per metterli tutti dentro a questo punto è meglio prendere una città metterle le mura intorno e mettere dentro tutti i truffatori del reddito no perché immaginatevi che si stima oltre 300.000 truffatori 300.000 è una grande grande città italiana se lo stato cominciasse a farsi rispettare dice hai preso il reddito sono un furbetto in carcere ma con la condizionale no no dietro le sbarre esagerati per un furbetto furbetto lo dicono i giornali dovrebbero cominciare a parlare di truffatori del reddito truffatori e danni dello stato vabbè per 4 euro che paroloni ma bisogna dire le cose come stanno uno che ruba il supermercato come il furbetto del supermercato hanno trovato oggi un altro furbetto del supermercato un ladro che parole furbetto e uno furbo il giusto vabbè che vi devo dire continuiamo così che andiamo alla grande arrivederci a tutti